Dopo un mese interamente dedicato a God of War, che è stata l'esclusiva Sony, che ha conquistato praticamente la prima parte di quest'anno, il mese di maggio finalmente torna ad avere una dicotomia tra Microsoft e Sony. Il primo lancerà State of Decay 2, mentre Sony si diletterà con il nuovo titolo di Quantic Dream, a firma di David Cage, ossia Detroit Become Human. Tutti i titoli principali che usciranno in questo mese ve li raccontiamo adesso. Dopo tanta attesa, finalmente Microsoft torna a lavorare sulla sopravvivenza grazie al nuovo titolo sviluppato da Undead Labs. Grazie a una modalità cooperativa che potenzia l'aspetto multiplayer, State of Decay 2 si prepara a offrire dei meccanismi appaganti in quelle componenti da sopravvivenza che caratterizzano il titolo e il genere. L'impresa dovrà essere portata a termine e per farlo servirà tanta programmazione nell'esplorazione e soprattutto l'istinto umano di arrivare a fine giornata con le giuste risorse per avere la meglio sulla natura. Dopo tanti anni di assenza dal mercato videoludico, torna finalmente un gioco sul tennis. A metà strada tra l'arcade e la simulazione, il tennis World Tour di Big Ben Interactive ci propone un vasto roster di tennisti, da Fognini a Federer, tutti proposti con movenze e meccaniche riprodotte fedelmente dagli originali. Attraverso la modalità carriera sarà anche possibile imbracciare la propria racchetta e prepararsi a diventare il campione che abbiamo sempre sognato di essere. From Software ci porta nuovamente nelle lande sperdute dei non morti. La remastered del primo Dark Souls ci riporterà alla ricerca dell'iconica Anor Londo in un'esperienza unica che si è resa capostipite di un genere che ha perfezionato le meccaniche già proposte da Demon's Souls. Con un multiplayer rinnovato, con un framerate più stabile e con una risoluzione pronta ad accontentare i più esigenti sulle console di corrente generazione, la remastered di Dark Souls arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC, anticipando di pochi mesi l'arrivo anche su Switch. L'ultima fatica di Quantic Dream ci porterà nella Detroit popolata dagli androidi, pronta a interrogarsi sull'esistenzialismo e sulla propria identità. Attraverso tre diverse storie di vita e di rapporti con gli umani entreremo in contatto con il nuovo titolo firmato da David Cage, realizzato con il suo solito stile unico, che favorisce più la narrazione che il gameplay, senza dimenticare l'importanza di quest'ultimo, grazie alle fasi di investigazione che dovremo risolvere nei panni degli umanoidi che popoleranno a breve la PlayStation 4. A maggio ci sono comunque anche altri titoli, trovate l'intera lista su spaziogames.it, ma non dimenticatevi anche i DLC non solo dell'Ombra della Guerra, con la desolazione di Mordor, ma anche la nuova espansione di Destiny 2. Segnaliamo anche una piccola chicca per gli appassionati degli horror, ossia Agony, che arriverà verso la fine del mese. Per maggio è più o meno tutto, ci vediamo a giugno. Grazie.